Ci siamo lasciate nel video precedente con molta curiosità di cosa sarebbe successo a Kemal, che, grazie al suo brillante piano, è riuscito a distrarre Emir e le sue guardie, permettendo a Zehir di entrare furtivamente nella villa e prendere Denise con la complicità di Nian e della zia, sequestrandola e portandola via, lasciando il lettino vuoto. Ma adesso tutto cambia. Kemal, in seguito a questo gesto, finisce in carcere e la tensione cresce. Cosa succederà adesso? Iscriviti al canale e guarda il video fino alla fine per scoprire il fatto unico che vi lascerà senza parole. Immagina di essere nel mezzo di una caccia al tesoro, dove ogni mossa può cambiare tutto. Kemal ha preso Denise e Emir è una furia inarrestabile, disposto a tutto pur di scoprire dove si nasconde. Il suo piano è pronto e spietato, ma riuscirà davvero a fermare Kemal? Queste anticipazioni di Endless Love vi terranno incollate allo schermo, con una tensione che cresce a ogni minuto. Non perdetevi ciò che sta per succedere. E se volete rimanere sempre aggiornati, ricordate, iscrivetevi al canale. E ora entriamo nel vivo della trama. Kemal, visibilmente teso, riesce a raggiungere Zehir. Si avvicina a lui con passo rapido e uno sguardo preoccupato, chiedendogli con voce seria se Denise stia bene e se i suoi genitori siano al sicuro, esattamente come aveva pianificato. Il suo respiro è corto, l'ansia lo pervade, ma Zehir, con calma rassicurante, gli conferma che tutto è sotto controllo. Kemal, sollevato ma ancora guardingo, solleva delicatamente Denise, con un gesto protettivo e premuroso. La bambina viene sistemata nell'auto con cura, mentre Kemal si prepara a portarla via, lontano dai pericoli che incombono. Nel frattempo, Emir entra in azienda come un fiume in piena, con il volto rigido per la rabbia. Ogni passo che compie è una manifestazione della sua determinazione a risolvere la questione. Mentre attraversa i corridoi a grandi falcate, incontra sua sorella, Asu, che lo ferma, visibilmente scossa. Con una voce incerta e preoccupata, gli rivela che Tariq l'ha chiamata, dicendole del rapimento di Denise. Asu lo guarda cercando una conferma, mentre Emir, senza riuscire a nascondere la sua frustrazione, prende atto della situazione. Le emozioni che attraversano i personaggi sono forti. La preoccupazione di Kemal, la rabbia di Emir e la paura di Asu rendono ogni momento carico di tensione. Se siete curiosi di sapere cosa succederà dopo e come si evolverà la situazione, vi consiglio di restare fino alla fine del video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per essere sempre i primi a scoprire tutti i segreti di Endless Love e non perdervi neanche un dettaglio. Emir, con lo sguardo carico di vendetta, si allontana a grandi passi, lasciando Nihan bloccata nel corridoio. Lei, paralizzata dalla rivelazione, prova un'ondata di panico. Il pensiero che Emir stia per trovare Denise la scuote, perché sa quanto lui possa essere spietato. Il suo cuore batte all'impazzata, consapevole che la situazione è ormai sfuggita al controllo. Emir, invece, è determinato come non mai e ogni suo passo risuona come un tamburo verso la resa dei conti. Il pensiero di aver finalmente localizzato sua figlia alimenta la sua furia e lo rende implacabile. Nulla, nemmeno Nihan riuscirà a fermarlo. Intanto, Kemal continua a guidare verso la casa dei suoi genitori, stringendo il volante con una mano e con l'altra gettando continui sguardi a Denise, che riposa sul sedile posteriore. Il viaggio è denso di emozioni contrastanti. C'è il sollievo di avere finalmente sua figlia accanto, ma anche la costante preoccupazione che Emir possa scoprirli. Ogni chilometro che percorre lo avvicina a un rifugio sicuro, ma allo stesso tempo lo fea a sentire ancora esposto. Per tranquillizzare Denise, ancora ignara di quanto accaduto, accende la sua canzone preferita, quella che Nihan gli aveva raccontato essere la sua preferita. Le note delicate sembrano calmare la bambina e per un istante anche Kemal si sente più leggero. Quei ricordi di Nihan, di quando gli aveva spiegato con precisione ogni abitudine della piccola Denise, tornano potenti nella sua mente. Ricorda quel giorno in cui si erano trovati in un centro per bambini. Nihan, che con attenzione gli illustrava ogni minimo dettaglio, come una madre premurosa. E lui, con il cuore pesante, aveva promesso a se stesso che non avrebbe mai fatto mancare nulla alla figlia, pur sapendo che l'assenza di Nihan avrebbe lasciato un vuoto incolmabile. Questo pensiero, ora più che mai, lo spinge a proteggere Denise a qualsiasi costo. All'interno dell'ufficio di Emir, l'atmosfera è tesa come una corda pronta a spezzarsi. Galip, il padre di Emir, è nervoso non solo per il destino di sua nipote, ma anche per le ripercussioni che il rapimento potrebbe avere sulla loro azienda. Il rischio di uno scandalo è alto e una sola notizia trapelata alla stampa potrebbe far crollare le azioni della società, con danni incalcolabili. Dopo una chiamata con i suoi contatti, Galip si rivolge a Tufan, sperando che almeno lui abbia trovato qualche traccia su eventuali comunicazioni tra Nihan e Kemal. Ma Tufan scuote la testa, sconfitto. Non ci sono prove che possano aiutarli. Galip, preoccupato, non può fare a meno di mettere in guardia suo figlio, insinuando che Nihan potrebbe essere dalla parte di Kemal. «Quella donna ti rovinerà», gli dice con tono severo. Ma Emir, al culmine della frustrazione, lo zittisce bruscamente. La sua mente è ormai focalizzata solo su una cosa, riprendersi Denise. Ogni altro problema gli sembra secondario. Mentre si prepara a uscire dall'ufficio, l'uomo di Kemal lo informa di aver finalmente localizzato la bambina, grazie a una traccia al computer. Senza esitare, Emir esce di corsa dall'ufficio, ordinando a Tufan di avvisare a Khan. Le sue mani tremano leggermente, non per paura, ma per l'adrenalina che lo invade. È solo questione di tempo, prima che affronti Kemal faccia a faccia. Mentre si precipita fuori dall'edificio, incrocia nuovamente Nihan. Lei lo ferma di scatto, cercando di capire cosa stia succedendo. Ma Emir, con un sorriso trionfante e una scintilla di vendetta negli occhi, le risponde freddamente. Ho trovato Denise. Ora, tutto si muove verso un inevitabile scontro. Mentre Emir si dirige verso la sua destinazione, Nihan capisce che non ha tempo da perdere. Deve trovare un modo per fermarlo, perché sa che se Emir troverà Denise prima di Kemal, non esiterà a distruggere tutto. Anche il legame tra di loro potrebbe essere spezzato per sempre. Emir, deciso a mettere in atto il suo piano, rivela che, dopo essere stato informato da Banu su ciò che aveva sentito dalla madre di Kemal, aveva preso una precauzione fondamentale. Per non perdere mai di vista i movimenti di Fehime, aveva nascosto un dispositivo GPS nella sua borsa, così da poterla controllare in ogni momento. Con un sorriso soddisfatto, dice a Nihan di non preoccuparsi di come sia riuscito a trovare Denise, ma di essere semplicemente felice che abbia anticipato Kemal. Nihan, visibilmente angosciata, cerca di restare calma nonostante l'angoscia crescente. Emir, percependo la sua agitazione, la osserva attentamente e le chiede se vuole accompagnarlo a recuperare Denise. Lei, consapevole di non avere molte alternative, accetta con riluttanza. A quel punto Emir le chiede di consegnargli il telefono e senza opporsi, Nihan glielo porge, conscia che qualsiasi rifiuto potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. Nel frattempo, Fehime e Hussein, i genitori di Kemal, sono nascosti in un furgone insieme a Ayyan. Il veicolo è parcheggiato nei pressi di un parco e l'aria all'interno è carica di attesa e preoccupazione. Hussein, visibilmente nervoso, domanda ansioso se ci siano notizie di Kemal e Ayyan cerca di rassicurarlo, dicendo che Kemal è quasi arrivato. Il loro legame di famiglia, così intenso, è la base di quella endless love che li spinge a restare uniti nonostante i pericoli che li circondano. Allo stesso tempo, Zeynep arriva alla stazione di polizia e si imbatte in Akan, che sta uscendo dall'edificio. Senza esitazione, gli corre incontro e, agitata, gli chiede aiuto. Kemal ha rapito Denise. Akan, però, con un tono calmo e fermo, le spiega che è già a conoscenza della situazione. Quelle parole risvegliano nella mente di Zeynep il sospetto che Emir e Akan stiano collaborando da tempo, forse già da quando Emir si era recato da lui per discutere della faccenda. Ma Akan si giustifica, dicendo che sta solo facendo il suo lavoro, dato che è stata aperta una segnalazione per la scomparsa di un minore. Zeynep, con voce tesa, gli risponde che Denise è la figlia di Kemal, non di Emir. Akan, pur dispiaciuto, le spiega che legalmente Denise è considerata figlia di Emir e che deve attenersi alle leggi. Zeynep teme che i suoi genitori possano essere coinvolti e, in preda all'ansia, tenta di contattare Kemal, ma lui non risponde. Nel frattempo, Akan la avverte che se Kemal porterà lì la bambina, sarà costretto ad arrestarlo. Dopo questo avvertimento, Akan sale in macchina e si dirige verso la posizione indicata da Emir, mentre Zeynep resta angosciata, consapevole che la situazione sta sfuggendo di mano. Kemal, intanto, chiama Ayan per informarlo che sta per arrivare. Ogni chilometro che percorre lo avvicina alla sua famiglia e, nonostante le difficoltà, il suo unico pensiero è proteggere Denise. La sua endless love per sua figlia lo spinge a non fermarsi davanti a nulla, neppure davanti al pericolo di uno scontro imminente con Emir. Nel frattempo, Emir e Nihan viaggiano insieme in macchina. Emir è al telefono con Akan e gli ordina di non lasciarsi sfuggire Kemal. Akan lo rassicura, dicendo che ha già mandato la sua squadra alla posizione indicata. Dopo aver chiuso la chiamata, Nihan, con voce ferma, dice a Emir che conosce Kemal meglio di chiunque altro e che non metterebbe mai in pericolo la sua famiglia. Emir, con un ghigno ironico, le risponde che deve smettere di fingere, perché percepisce la sua paura. Nihan, sinceramente preoccupata, ammette che ha paura, ma solo per la sicurezza di Denise. Questa paura non è altro che una manifestazione del suo profondo amore materno, un endless love che la guida in ogni sua scelta. Intanto, i poliziotti giungono sul luogo indicato e uno di loro ha vista il furgone di Aihan. Comunicano via radio e Aihan ordina loro di non farsi notare fino a quando Kemal non arriverà con la bambina. Anche Emir è ormai vicino alla destinazione. Lo sguardo indagatore di Emir si posa su Nihan e con voce pungente le chiede se sappia perché ha voluto portarla con sé. Nihan, con tono freddo e deciso, risponde che, anche se non vuole saperlo, è certa che lui glielo dirà comunque. I loro destini, uniti da una relazione travagliata e complessa, sembrano essere legati da una sorta di endless love che, nonostante il dolore e la rabbia, continua a influenzare ogni loro azione. Se amate Endless Love e non volete perdervi neanche un dettaglio delle vicende più intense, iscrivetevi subito al canale per restare sempre aggiornate con le nostre anticipazioni. Emir, con il suo solito sguardo compiaciuto, svela a Nihan il vero motivo per cui l'ha portata con sé. Vuole che lei assista di persona al fallimento di Kemal, che capisca come tutti i suoi sforzi siano stati inutili. Per Emir, questa è l'occasione perfetta per dimostrare la sua superiorità e distruggere ogni speranza del suo rivale. Arrivati sul posto, Emir e Nihan scendono dall'auto, seguiti poco dopo da Akan, che con fare professionale chiede un aggiornamento ai suoi uomini. Uno di loro riferisce che nel furgone sono presenti una donna e tre uomini. Emir, visibilmente determinato a non lasciare alcuna via di fuga, si assicura che tutte le uscite siano bloccate. Non vuole concedere a Kemal nessuna possibilità di scappare. Poco dopo, da lontano, Nihan nota una macchina avvicinarsi. Con il cuore in gola, riconosce che è proprio l'auto di Kemal. È in quel momento che Ayan dà l'ordine di procedere, mentre Emir, sicuro di sé, risale in macchina con Nihan, pronto a seguirli e a vedere quello che crede essere la rovina di Kemal. La tensione cresce, mentre tutti si dirigono al luogo designato per l'incontro. Quando Ayan e i genitori di Kemal scendono dal furgone, si nota la loro espressione tesa, ma al tempo stesso controllata. Sono preparati a tutto. Akan, con tono autoritario, ordina a tutti di non muoversi. Nel frattempo, Emir si avvicina all'auto con passo deciso, convinto che Denise sia lì, pronta per essere recuperata. Ma con grande sorpresa e rabbia, apre la portiera e scopre che al volante non c'è Kemal, bensì Zehir. Furioso, afferra Zehir per il colletto, chiedendogli come abbia fatto a capire il suo piano e a evitare la trappola. La verità è che, quando Zeynep era uscita dalla stazione di polizia, aveva tentato di chiamare suo fratello, ma il telefono era in mano a Zehir, che non ha potuto rispondere per evitare di essere rintracciato. Zeynep, capendo il pericolo imminente, gli aveva inviato un messaggio segreto. avvertendolo che la polizia stava arrivando nel luogo in cui si trovavano i genitori di Kemal. Grazie a questo avvertimento, Zehir era riuscito a contattare Kemal usando un altro telefono. I due si erano quindi incontrati di nascosto e con grande astuzia avevano scambiato le auto. Questo scambio ha permesso a Zehir di andare al luogo concordato, mentre Kemal portava Denise in un posto sicuro, lontano da occhi indiscreti. Ayan, con una calma quasi disarmante, spiega ad Akan che stavano semplicemente facendo un giro quando il furgone ha avuto un guasto e Zehir era venuto a prenderli. Emir, però, non si lascia convincere così facilmente. Con gli occhi colmi di rabbia minaccia tutti, affermando che troverà sua figlia, anche se dovesse scavare fino a sette piani sottoterra. Senza perdere altro tempo, torna furioso verso l'auto, trascinando con sé anche Nihan, pronto a pianificare il prossimo passo per trovare Denise. Nel frattempo, Kemal è finalmente arrivato in una casa isolata, lontano da occhi indiscreti. Tiene Denise tra le sue braccia con una tenerezza infinita, sedendosi sul divano. È un momento di pura gioia per lui. La sua endless love per sua figlia si riflette nel suo sorriso, che non riesce a contenere. Dopo tanto dolore e conflitti, si sente sopraffatto dall'emozione di averla portata lontano da quel mondo di tensioni. Le parla dolcemente, le sussurra parole d'amore e la stringe con delicatezza, confessandole che avrebbe voluto che anche sua madre fosse lì con loro in quel momento speciale. La guarda con l'amore di un padre che finalmente ha ritrovato la sua bambina. Sulla strada del ritorno, Emir guida con una espressione sempre più cupa. Il suo corpo inizia a manifestare un dolore alla gamba sinistra, un segno di un problema di salute che ha tenuto nascosto a tutti. Nian lo osserva, preoccupata, e gli chiede se stia bene. Emir, senza voler dare troppa importanza alla cosa, le chiede di passargli le medicine dal cruscotto, facendole capire che c'è qualcosa di più serio dietro la sua facciata di forza. Questo segreto, che ha tenuto nascosto persino a Nian, potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro. Nel frattempo, Kemal si sta godendo ogni istante con sua figlia. La adagia delicatamente sul letto per cambiarle i vestiti, giocando e scherzando con lei. Le riempie il volto di baci affettuosi, incapace di trattenere l'amore che prova per lei. Dopo averla cambiata, la riporta sul divano, le dà il biberon e osserva con occhi sognanti ogni suo piccolo movimento. Sorridendo, le chiede di chiamarlo papà e, con un sorriso ancora più grande, le dice che non c'è fretta, perché da ora in poi staranno insieme e nessuno potrà separarli. Ma cosa accadrà adesso? Emir non si arrenderà facilmente e sappiamo che farà tutto ciò che è in suo potere, anche corrompere chiunque, pur di trovare Denise. Kemal riuscirà a portarla al sicuro dai suoi genitori ora che sono stati scoperti? Le prossime anticipazioni di Endless Love saranno ancora più ricche di colpi di scena e noi siamo già al lavoro per raccontarvele. Se volete sapere cosa succederà, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti LO VOGLIO! Quali sono le vostre previsioni? Kemal riuscirà a proteggere Denise? Scrivilo sotto nei commenti. Vi aspetto nel prossimo video per scoprire insieme i prossimi sviluppi. Scrivetevi al canale